Siamo con Pupo e Dall'Olio, allenatore del Contro Reggio Emilia, fine partita contro Cantù. Una perdita, una sconfitta inaspettata, quanto fa male? Ma fa male, queste proporzioni fa male sicuramente. Io assolutamente non ero alla vigilia ma neanche i ragazzi eravamo sicuri di fare una passeggiata, anzi Cantù sappiamo che è una squadra molto esperta, è una squadra che se la lasci giocare come purtroppo abbiamo fatto noi stasera, può creare dei problemi. Siamo partiti anche con tratti, non lo so il motivo è difficile perché è la prima volta nella mia gestione che facciamo una partita così farraginosa, dove non riusciamo a esprimerci, ci sono dei dati tecnici. Noi abbiamo fatto troppa fatica nel cambio palla e di conseguenza gli altri ne hanno avuto vita facile, anche in battute, siamo stati meno incisivi del solito, perciò diventa difficile. Qualche problema forse nel reparto dei centrali? Qualche problema, i problemi ci sono stati un po' dappertutto, penso che nessuno stasera in campo possa dire di aver fatto una partita sufficiente, perciò è inutile puntare il dito su un reparto, adesso noi dobbiamo analizzare velocemente questa partita, poi ce ne aspetta un'altra tra tre giorni a Montefiascone, è una partita ancora più difficile di questa, però io credo che i miei ragazzi si possono sollevare in giro di due giorni e fare una grande partita a Montefiascone, poi tireremo le somme.